buonasera buonasera benvenuti benvenute a questa lanterna verde di ecopsiche scuola di ecopsicologia che sono le serate con incontri con con amici colleghi studiosi ricercatori su temi che circolano attorno a quella che è l'ecopsicologia questo incontro tra mondo esterno e mondo interno tra eco i cos casa e psiche psiche anima e quindi è con una gioia immensa davvero che vi presento marco manzoni con cui 33 anni fa udite udite abbiamo organizzato coordinato condotto insieme la prima festa dell'ecologia in collaborazione col comune di milano che all'epoca è stato un evento assolutamente all'avanguardia che aveva come simbolo un immenso cavolfiore che quando c'era stato presentato dai grafici era un bellissimo schizzo in uno stile molto abbozzato e poi grafico a frantesa la nostra intenzione ci ha portato davvero la foto di un cavolfiore quindi come ci mi ricordava marco poco fa ce l'hanno chiamata festa del cavolo marco si definisce artigiano della cultura è un ricercatore ha avuto modo di incontrare intervistare personaggi chiave in quello che è il nostro panorama culturale attuale parlo soprattutto di panorama culturale nella direzione della in cui anche l'ecopsicologia guarda e ci siamo incontrati dopo 33 anni scoprendo che abbiamo fatto dei percorsi che andavano nella stessa direzione quindi a maggior ragione una grandissima gioia e l'obiettivo il punto lo spunto per averlo qui con noi è questo libro di cui lui ci parlerà anche chiacchiereremo insieme vi coinvolgeremo se avete domande usate la chat poi vi coinvolgeremo anche in prima persona salviamo il mondo quindi però lascerò a marco raccontarlo in dettaglio quindi marco io lascerei a te il fatto di presentarti e acchiattolo da dove lo vuoi il tema e chiacchiereremo un po insieme coinvolgendo anche il gruppo quindi a te la parola è veramente benvenuto di cuore qui con noi grazie grazie marcella grazie a ecopsiche e a tutti voi a tutte voi che siete presenti vi ringrazio della proprio affettuosamente della vostra presenza stasera e ha già detto marcella io non posso che che ribadire anch'io la veramente la gioia interiore di intanto di averla ritrovata appunto qualche mese qualche mese qualche mese fa avevo qualche altro momento così visualizzato che aveva anche pubblicato dei di a sua volta dei libri molto interessanti ma non mi ero determinato a come dire a prendere il telefono o la mail per 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 chiamarla ed è stata veramente una gioia ritrovarsi sullo stesso come diceva poc'anzi lei sullo stesso cammino di ricerca non culturale accademica ma ricerca come dire interiore ricerca esistenziale ricerca sui valori della vita che nel nostro nel nostro tempo nella nostra epoca non possono non riguardare anche il problema ecologico ambientale perché è una delle nostre cifre della nostra epoca è una delle nostre emergenze ed è una di quei fattori il rapporto con la natura che è come dire modella anche la nostra relazione con la nostra dimensione interiore con quello che chiamiamo anima e quindi sono veramente contento di questa di questa occasione vi dico proprio due parole ultrasintetiche su quello che è stato il mio percorso di questi trent'anni io in realtà arrivo da tutt'altro ambiente arrivo dal teatro ho lavorato per dieci anni in un teatro milanese e mi occupavo diciamo così delle iniziative culturali poi grazie a un paio d'anni di fra virgolette crisi esistenziale nel senso di domanda sul senso dell'esistenza che mi portò a leggere in modo disordinato apparentemente un po' caotico filosofia occidentale orientale psicoanalisi e in quel periodo scoprì uno dei pensatori che fu per me uno dei fari più significativi cioè gregory bateson quello che il così lo scienziato che coniò anche la 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 così la la dicitura di ecologia della mente insomma fu un periodo apparentemente caotico un po un minestrone di tante verdure barra barra letture che però mi orientò nel lavoro che poi diventò quello che iniziai lasciando poi l'attività teatrale che io ho chiamato sinteticamente progetti culturali legati alla domanda di senso progetti culturali sì perché non erano nei progetti economici nei progetti tecnici nei progetti di altra natura però ho voluto da subito definirli legati alla domanda di senso per chiarire che l'impulso a realizzare in certi casi dei convegni in altri casi dei film intervista o altri tipi di attività aveva sempre come dire una cifra interiore come motivo di partenza e ecco quindi questo è stato diciamo così il percorso iniziato trent'anni fa e praticamente uno dei primi passi fu appunto questa festa dell'ecologia che ideammo organizzano insieme che fu effettivamente un pochino strana un po non dico profetica ma un po antesignana perché ricordo che così la pasqua precedente di quel luglio del 89 era in vacanza in una località così marittima della toscana palco dell'uccellina e mi venne un po così mi attraverso un pensiero e mi dissi ma perché non si può fare una festa ambientale ecologica in cui ci stia dentro non scandalizzatevi che ci stia dentro da una parte lo yoga e dall'altra bruce springsteen che già allora era un cantante rock che secondo me andava oltre il rock ed era molto umano aveva molta energia vitale addosso e da quel piccolo spunto lì poi appunto grazie anche all'aiuto indispensabile al contributo di marcella venne fuori una festa dell'ecologia dove ci sono furono varie attività da quelle educative e ricreative per i bambini a degli spettacoli teatrali e musicali a dell'esposizione di così alimentazione biologica dei dibattiti invece più seri insomma una appunto una festa del cavolo dove appunto le anime erano diverse e già in nuce parlo per per quello che poi è stato lo sviluppo poi del mio lavoro successivo c'era in nuce una relazione molto precisa fra microcosmo e macrocosmo che è stata una delle dei dei light motive del mio lavoro insieme alla transdisciplinarietà e quindi al tentativo di affrontare alcuni problemi dell'epoca contemporanea non in senso specialistico quindi verticale ma in senso orizzontale cioè cercando di creare dei ponti fra i diversi saperi fra le diverse discipline e le diverse anche esperienze concrete mi fermo qui perché ho già parlato troppo vengo così a dire due parole su lo stimolo di questa serata che come anticipava marcella è questo libro che ho pubblicato pochi mesi fa che si intitola appunto salvare il futuro dall'uomo ibris all'uomo pathos e non è un libro anche in questo caso accademico nasce nel periodo della pandemia io ho scritto innanzitutto per me non sinceramente non pensavo assolutamente di pubblicare un libro ed è stato in quel momento che tutti ricordiamo essere stato un momento tragico da una parte ma dall'altra anche permettetemi il termine anche un po magico tragico ma anche un po magico perché la macchina produttiva la macchina quotidianità della cosiddetta normalità i tempi della nostra normalità tutto questo è rimasto un po sospeso per aria no ricordiamo tutti ricorderete sicuramente anche voi quel silenzio delle città quel silenzio in cui eravamo attoniti disorientati spaventati ma anche surrealmente con uno spiraglio più aperto del solito per ascoltarci perché non travolti da tutti gli stimoli che ogni giorno appunto spesse volte ci non riusciamo a governare ecco io così in quel periodo mi sono anche ancora una volta mi sono messo a scrivere in una forma un po caotica all'inizio e poi nel secondo lockdown più lieve ma ugualmente consistente dell'autunno del 2020 ho cercato di dare una forma un po più compiuta a che cosa a una riflessione che in prima persona per me mi sembrava necessario fare su alcuni dei dei problemi delle problematiche che toccavano sia la società nel macrocomo e il pianeta dal punto di vista ecologico sia però anche l'interiorità della persona prima della pandemia prima della pandemia perché già prima della pandemia avevamo alcune emergenze alcune crisi in atto una crisi sociale una crisi appunto ecologico una crisi anche etico etico spirituale cioè una crisi dei valori umani che erano già arrivati molto avanti e che la pandemia da una parte almeno per certe persone ha aiutato a portare più alla luce in molti altri casi ahimè mi viene da dire ha invece contribuito a celare cioè a riportare nel cono d'ombra perché tutto è stato anche inevitabilmente tutta l'attenzione è stata concentrata sulla lotta al virus sui vaccini sulle varie terapie e così via ecco il mio sforzo è stato quello di appunto io chiamati poi nel libro cinque virus psicosociali che hanno proprio da un punto di vista psicologico sociale e sociale hanno proprio infettato e inquinato la mente e l'anima dell'uomo negli ultimi decenni e che in particolare anche su questo mi sono ritrovato con molta gioia sulla stessa lunghezza d'onda con marcella e penso quindi anche con voi e che virus che hanno poi intaccato da una parte l'anima della persona ma dall'altra come ben sappiamo il nostro pianeta la terra che ci ospita no la nostra casa comune che purtroppo con il surriscaldamento del clima e un uso indiscriminato delle risorse naturali è arrivato in un punto ormai molto critico ecco per intanto mi fermerei qua poi non so adesso se marcella vuole lei questa cosa dei virus questo tema dei virus in un momento in cui si parla tanto di un virus sappiamo tutti bene quale mi ha colpito il fatto che nessuno invece vede cioè sono tutti concentrati su un virus piccolino 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 quando invece sono dei macro virus che ci stanno tormentando proprio e sul fatto che è importantissimo è stato un po momento si condivido proprio la visione che hai dato ha avuto anche una sua magia ha offerto anche un'opportunità forse non è un caso è stato l'anno in cui sono arrivati più iscritti che non altri anni perché molte persone soprattutto psicologi ci sono proprio detti ma io che cosa voglio fare davvero comunque questo tema di virus che quello che mi ha colpito di più sul tuo libro io ti chiederai se puoi magari esplicitare un po di più come come li hai dal tuo punto di vista quali sono in modo che ci offra una 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 mappa di riflessione chiaramente sappiamo tutti che la mappa non è territorio però ogni persona che riflette su un determinato tema crea delle sue mappe che possono poi essere utili anche ad altri per per orientarsi quindi già che quello che noi ci chiediamo come ecopsicologia è proprio come fare sì che questo lavoro su noi stessi si traduca non solo su un lavoro sull'ambiente ma anche sul piano sociale il tema che ci porta marco importantissimo abbiamo fatto proprio venerdì c'è stato questo webinar straordinario sull'eco leadership a partire da un articolo uscito sul lotto marzo proprio sulla rivista sulla principale rivista internazionale di ecopsicologia che sottolinea come i progetti attuali di ecopsicologia si stanno orientando sempre di più su un'attenzione anche sul piano del sociale quali stili di vita vogliamo come vogliamo vivere come vogliamo fare sì che anche le relazioni tra umani siano ecologiche perché non possiamo trovare una buona relazione con noi stessi col mondo se passiamo completamente quello comunque della nostra dimensione umana e quello che a me è piaciuto molto di questo libro di marco che vi trovate anche in bibliografia e quindi anche uno dei libri su cui potete presentare la relazione perché nella nostra scuola le partecipanti si allenano a tenere una relazione a un convegno quindi sanno che sono rigidissima sulla mezz'ora per stare nei tempi c'è anche un aiuto a come fare presentare le diapositive con uno stile presentation zen perché proprio il compito del dell'ecotuner del facilitatore delle relazioni con la natura che il nome di chi fa una formazione in ecopsicologia applicata è quello di promuovere ognuno nel suo ambito ognuno come può ma sappiamo che la divulgazione è molto importante quindi il tema che tu hai toccato marco è proprio è proprio questo è proprio quello che va a toccare la nostra dimensione umana sociale e culturale ecco quindi ti ti ributto la palla chiedendoti qualche cosa di più su questi cinque virus grazie marcella di questo così stimolo guardate io sono partito da tre parole una è di origine greca invece due sono tranquillamente italiane quella greca è ubris forse non so un po' darsi che l'abbiate incontrato in qualche lettura o comunque è un termine greco antico che significa semplicemente eccesso perdita del senso del limite strapotenza arroganza cioè una serie di manifestazioni umane di dinamiche umane che prevedono che si possa fare a meno di qualsiasi limite diciamo che l'ubris è la forma umana che tende come dire all'onipotenza che vorrebbe quasi se volete la battuta che l'uomo fosse divino in senso come dire negativo del termine cioè che appunto non abbia più il senso della misura e invece le due parole italiane sono mi sono domandato che senso avessero oggi nel ventunesimo secolo queste due parole che sono state sono ancora due parole guida del discorso pubblico dei non solo di dei media ma dell'argomentare non solo politico ma anche sociale culturale quotidiano vale dire la parola progresso e la parola crescita la parola progresso è stata comune diciamo così a tutto l'occidente negli ultimi secoli ed è stata condivisa sia dal ovviamente in campo economico dal capitalismo in campo scientifico dal pensare che appunto la scienza e poi anche la tecnologia potessero avere un progresso anche lì illimitato e appunto senza limiti e l'ho avuto diciamo così è stata un po una parola chiave anche se volete di quello che era fino a qualche decennio fa la forma di pensiero alternativa al capitalismo vale a dire il marxismo il comunismo il pensiero socialista no il cosiddetto solo dell'avvenire no il pensare che l'umanità è destinata di per sé a un progresso sempre migliore e dall'altra parte anche la parola crescita che molte volte è stata ancora oggi declinata solo sul piano quantitativo quando si parla di crescita economica e si pensa solo al pil alla crescita del pil senza andare a indagare che cosa c'è dietro al pil e magari dietro al pil c'è anche la crescita come adesso capiterà purtroppo della spesa per gli armamenti oppure dietro al pil ci sono anche tutti gli interessi economici delle diverse forme di criminali di criminalità organizzata ecco quando ci si riduce al dato solo quantitativo a mio parere si è su una strada inadeguata al alle problematiche che abbiamo oggi di fronte invece la crescita deve essere pensata come sostenibile dal punto di vista ambientale e sempre più qualitativa che quindi investa la qualità sia dei beni che vengono prodotti ma sia della modalità con cui vengono prodotti e soprattutto poi una crescita qualitativa della consapevolezza umana della persona quindi non parliamo solo di crescita ma materiale economica tecnologica ma parliamo di una crescita qualitativa della presenza umana sulla terra e quindi mi sono domandato ma nel ventunesimo secolo lasciamo da parte perché siamo qua sulla terra che già ci si divide credenti non credenti ma possiamo domandarci laicamente come pensiamo di abitare questo pianeta come pensiamo di abitare la nostra esistenza oggi nel ventunesimo secolo questa domanda questa domanda in forma proprio laica possiamo domandarcela perché è evidente che è in crisi ormai crescente il modo in cui l'occidente perché poi è l'occidente ancora che traina tutto il resto del mondo ha impostato il modo di abitare la terra e nel macrocosmo e dall'altra anche la relazione con gli altri cioè un modo di impostare impostare queste due relazioni simmetriche dove scusate la banalizzazione alla fine vince sempre il più potente il più veloce il più astuto cioè vince quella mente quella parte della mente calcolante quella parte essenziale della nostra mente è ben inteso io non sono né contro la scienza né contro la tecnica né contro la mente l'emisfero sinistro e compagnia bella penso che sia errato che questa parte della mente pensi di essere l'intera mente perché invece la nostra mente come ben insegna ben insegnato 40 anni fa gregory bateson ma con lui poi dopo fritti of capra a cui mi sono anche ispirato come maestro e con lui anche uno degli studiosi più importanti del della complessità come edgar moren e via via ma se volete con altre parole dice la stessa cosa e pensava nello stesso nello stesso direzione carl gustav jung il padre della psicologia analitica quando pensava e proponeva che noi come persone dovessimo tenere insieme i poli opposti di cui siamo appunto composti e non che un polo cioè quello razionale facesse fuori il polo invece più legato il polo mentale più legato a che cosa legato all'emozione all'intuizione alla dimensione artistica alla dimensione etica al senso di coappartenenza alla totalità al rapporto con le forme viventi non umane all'inconscio diciamo in una parola all'eros quindi alla fine se permettetemi la battuta alla vita perché se togliamo tutte queste cose qui e resta solo la parte logico razionale vuol dire che facciamo fuori tre quarti della 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 vita dell'energia vitale allora sono partito da queste tre parole e per rispondere adesso più precisamente la domanda di marcella ho rintracciato cinque forme molto specifiche nella nostra nel nostro tempo contemporaneo di hubris cioè di eccesso e li ho chiamati appunto cinque virus quali sono questi cinque virus quali sono queste cinque forme di eccesso che ci stanno sempre di più sbilanciando interiormente e sbilanciando anche nel rapporto con l'ecosistema terra il primo virus è l'eccesso di accelerazione di velocità nei tempi di lavoro e di vita non la velocità in sé che è utilissima a salvare anche delle vite ma l'eccesso di accelerazione che fa fuori invece il tempo il tempo più incline alla lentezza alla riflessione alla meditazione alla contemplazione anche della natura se volete anche alla memoria cioè lo schiacciamento del tempo solo al tempo diciamo così della macchina al tempo funzionale al tempo operativo il secondo virus è l'ipertrofia dei beni materiali noi abbiamo prodotto e consumato troppo negli ultimi decenni peraltro in una modalità che è stata per niente ecosostenibile cioè pensando che le risorse della natura sono infinite e illimitate abbiamo considerato la natura come merce a nostra disposizione abbiamo pensato che la terra sia non che noi siamo ospiti della terra ma che la terra sia a nostra completa disposizione e a nostro piacimento quindi abbiamo prodotto consumato e interiorizzato uno stile di vita incline a che cosa anche in questo caso al non senso del limite il consumismo moderno ci ha proprio fatto un lavaggio quotidiano parlo di decennie parlo dagli anni ottanta in poi in modo massiccio quindi più generazioni che non c'è problema possiamo andare avanti all'infinito no limits la cultura del no limit il terzo virus è quello che accennavo prima quando parlavo della mente cioè il fatto che è questa parte mentale molto operativa quella che domina i linguaggi dell'economia della matematica che linguaggi ripeto straordinari di cui non dobbiamo e non possiamo fare a meno siano però diventati dominanti è la famosa guardate cioè adesso io vi sto annoiando probabilmente con ma vogliamo dirla con un con un grande filosofo e poeta eh che aveva già capito tutto da questo punto di vista nel 1600 bless pascal quando disse la ragione non conosce le ragioni del cuore la pura ragione il puro pensiero logico non è in grado di di comprendere proprio di prendere insieme di comprendere tutto l'insieme delle potenzialità della nostra mente e anche della relazione con il corpo attenzione perché quel tipo di mente lì fa fuori non solo il cuore l'anima ma fa fuori anche il corpo c'è un un rapporto totalmente squilibrato con la nostra fisicità con il nostro corpo che ha come ben sappiamo dalle moderne neuroscienze ha una sua forma di intelligenza così come anche le le emozioni si è ormai anche scientificamente ehm come dire no ho constatato che hanno una loro forma di intelligenza ecco eh Bateson aveva capito benissimo quando parlava di ecologia della mente e di eh dialogo eh interattivo fertile fra queste diverse eh componenti e qualità espressive della mente il quarto virus riguarda il clima ecco qui mi sono permesso se se ci sono riuscito non lo so eh una piccola innovazione nel senso che ho parlato del clima non solo atmosferico e qui non c'è bisogno che vi dica nulla riguardo perché lo avete presente eh anche meglio di me qual è il problema ma anche del clima sociale e del clima relazionale in particolare del clima relazionale fra i due generi sessuali cioè la mia chiave in interpretazione che ho esposto nel libro è che tutti questi tre climi dal macrocosmo del clima atmosferico a quello intermedio del clima sociale collettivo a quello nel microcosmo delle relazioni umane tutte e tre stiano andando verso una direzione ehm scorretta di polarizzazione cioè facendo fuori i punti intermedi le mediazioni nel caso del clima atmosferico eh lo sappiamo no la tendenza al troppo caldo o al troppo freddo con i fenomeni estremi alluvioni incendio che ma anche la società e le relazioni eh personali eh vivono eh troppo spesso dei delle dinamiche o di troppo freddo o di troppo caldo permettetemi questo questo affiancamento no? E l'esempio è nella società le disuguaglianze sociali quando prima eh giustamente Marcella richiamava l'interconnessione delle crisi presenti non possiamo più staccare la problematica ambientale ecologica come un problema sia un problema se settoriale dalla grande crisi sociale del mondo manifestata in modo eclatante dalle disuguaglianze sociali che non sono mai arrivate eh nella storia umanità a livello attuale sappiamo che i dieci uomini più ricchi del mondo detengono eh il reddito di metà della popolazione del del pianeta ma non è che detengono solo la la metà del reddito hanno in mano un potere gigantesco perché governano eh eh tutta l'informatica governano la distribuzione dei beni tipo Amazon che insomma sapete benissimo a chi a chi faccio riferimento e per ultimo anche le relazioni fra le persone ed io ho preso un epifenomeno eh ultra negativo e purtroppo molto indicativo della relazione con l'altro che è nel caso dei generi sessuali il crescente e drammatico fenomeno chiamato femminicidio no? Cioè la la difficoltà crescente del maschio di tenere aperta una relazione con una donna che non la pensa più come lui che vuol cambiare no? Ecco no? Eh mi fermo qui perché ci sarebbe molto da dire ma ci porterebbe eh troppo lontano. In generale però a parte eh la difficoltà crescente della relazione fra i generi sessuali è la relazione con il prossimo, con l'altro, con il diverso che sappiamo bene che è sempre più complicata no? La crescente indifferenza non solo verso i migranti ma anche verso gli altri no? Questo questo egoismo, questo narcisismo crescente eh che è dilagato nella società occidentale negli ultimi decenni. L'ultimo virus è quello che riguarda la dimensione interiore dove i valori puramente materialistici e la dimensione appunto egoica hanno preso in generale eh sto parlando non sto parlando di singole persone come voi evidentemente hanno preso il sopravvento hanno preso il sopravvento su su quali altri valori? Sui valori sia dell'etica laica quel po' di valori dell'etica laica che secondo me sono ancora attuali perché quando si parla non solo di uguaglianza fraternità e libertà ma se parliamo di responsabilità, di cura, di cooperazione, di solidarietà, di compassione e così via parliamo di valori laici che non sono da buttare eh via. E dall'altra anche parlo dei valori della tradizione spirituale intendendo per tradizione spirituale religiosa ehm quelle quelle parti diciamo così ehm delle 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 religioni contemporanee che sono disponibili e disposte a un ascolto reciproco che lavorano per la pace per il dialogo e per la cooperazione non certo le parti ehm fanatiche e intolleranti. Questi sono scusate ho dovuto stringere ovviamente anzi ho parlato fin dopo. Questi sono i cinque virus. Vorrei solo aggiungere che però eh nel libro eh il tentativo sicuramente non adeguato è il mio piccolo granellino di sabbia e nella direzione di un nuovo paradigma culturale e ambientale che di cui si sente sempre più una necessità. Nel libro ho cercato poi alla fine dei capitoli in cui ho analizzato questi fenomeni negativi di eh esporre se non dei rimedi esaustivi alcuni elementi, alcune proposte per riequilibrare eh questi diversi squilibri. E in questo lavoro io mi sono eh orientato eh principalmente alla metafora del Tao, al pensiero taoista della via di mezzo come grande metafora eh secondo me è immortale che non indica un banale compromesso fra eh poli opposti ma eh Jung lo potrebbe chiamare se eh Gregory Bezos lo chiamava la la mente vasta cioè i nomi possono variare ma insomma quella quell'istanza terza che riesce a non far fuori questi poli anzi a esaltare la diversità fra loro e a esaltare l'interattività di cui abbiamo bisogno. Fantastico Marco. Sapevo che eravamo in sintonia ma non sapevo che a tal punto quando ho letto il tuo libro proprio hai citato. I personaggi che hai citato sono personaggi che 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 tutti qua voi conoscete perché ce li troviamo nel nostro programma di studi quindi Gregory Bates, Edgar Morin, Fridge of Capra, Jung e hai descritto anche proprio questo quando hai parlato della prevalenza della mente logico razionale sull'altro noi abbiamo questa metafora che viene da Kerstler che mi è molto cara della della origa guidata dai tre cavalli cavallo mente cioè corteccio cerebrale e cavallo emozione mesencefalo cavallo corpo che se non c'è una origa che ha ben saldo in mano le redini ogni cavallo tira nella sua direzione e la maggior parte delle volte ognuno di noi si trova in balia di quello che più o meno casualmente si trova a essere nella sua tipologia di personalità il cavallo più forte e quindi proprio il lavoro da fare l'importanza di riconoscere e onorare i bisogni le potenzialità i talenti di ogni cavallo perché abbiamo bisogno di tutti e tre perché siamo tutti e tre noi siamo non solo abbiamo un corpo noi siamo corpo noi siamo emozioni noi siamo mente e siamo anche molto di più perché siamo questo qui di impalpabile che fa da centro coordinatore che fa da baricentro ed è proprio una ricerca continua di equilibrio tra queste componenti interne quello che la realtà ci chiede quindi tutto quello che tu proponi è in perfetta sintonia questa attenzione alla a quello che noi chiamiamo il risveglio del femminile che non è il risveglio della donna il risveglio dell'archetipo femminile in ogni singolo essere umano quindi riconoscere onorare questa polarità che tu hai proprio definito intuitiva emotiva affettiva sociale in grado di includere che è fondamentale faccia da contraltare proprio alla parte logico razionale preziosissima bellissima eccezionale con competenze inimmaginabili ma che vanno dosate integrate semplicemente solo una questione di di quantità e di equilibri questo femminicidio attuale che è proprio il sintomo di questa contrapposizione tra queste due parti se vogliamo proprio scenderlo solo in due parti interno e la scommessa su cui opera l'ecopsicologia è quello di poter lavorare prima di tutto facilitando un'amicizia con se stessi quindi un lavoro interiore tra le diverse componenti tra i diversi cavalli per cominciare o addirittura tra diverse sfaccettature di personalità alla guida di quello che noi chiamiamo il signore la signora del pianeta io dove il pianeta è l'unica metafora abbastanza complessa per poter descrivere quella che è la la varietà e la molteplicità e la contraddittorietà della singola persona fra l'altro Marcella se posso aggiungere in questo contesto un'altra parola che fa da ponte fra il macrocosmo e il microcosmo quindi fra il pianeta esterno e il pianeta interno e fra la problematica ambientale e la problema è la problematica del nostro ambiente interno che è la parola biodiversità cioè io nel libro parlando dell'amazzonia così dico senza mezzi termini che bolsonaro è per fra gli altri a cui si potrebbe aggiungere tragicamente anche qualcun altro in questi i nostri giorni così così difficili bolsonaro è un esempio ecclatante di quello che nel libro chiamato homo ibris cioè l'homo ibris è non è nemmeno più l'homo sapiens è l'involuzione negativa dell'homo sapiens perché è dominato da dei sentimenti e delle emozioni negative quali l'avidità l'arroganza il il non senso del limite che appunto invece che costruire distrugge e bolsonaro per esempio sta agendo lo prendo come esempio concreto due tipi di genocidi io li chiamo proprio genocidi uno è un genocidio vegetale perché sta continuando perpetuando la distruzione delle foreste dell'amazzonica come sappiamo sono non solo un patrimonio ambientale ma sono una condizione concreta per cui possiamo esistere no da un punto di vista di di equilibrio ecologico sulla terra e dall'altra il genocidio delle delle degli ultimi esponenti delle etnie arcaiche amazzoniche che sono un altro patrimonio dell'umanità così come un altro patrimonio dell'umanità della diversità umana di cui è stata veramente ricchissima l'avventura umana di tutti di tutti dei vari secoli è la tradizione spirituale del tibet i monaci tibetani anche loro praticamente sottoposti a un di fatto a una sorta di di disparizione analoga a quella delle specie animali e vegetali allora l'esaltazione della diversità della vita sia da un punto di vista biologico vegetale e animale sia da un punto di vista delle tradizioni delle esperienze umane e quindi delle diverse culture delle diverse etnie a mio parere è una delle parole chiave che ci deve orientare verso dove verso il femminile che tu richiamavi giustamente a cui io ho provato a dare un nome così spero minimamente adeguato e l'ho chiamato homo pathos homo pathos attenzione non è l'uomo speculare alla logica razionale quindi che è dominato dalle emozioni no è l'uomo che tiene insieme il logos e il pathos e appunto è il femminile cioè è quella presenza umana che più se volete come dico nel libro è l'uomo religioso in senso etimologico del termine anche da un punto di vista laico nel senso che religa che crea ponti non che separa per poi distruggere scusa è l'incursione ma guarda gongolo sento proprio detto in altri modi esattamente quello che questa mission che mi sta guidando che ho riconosciuto nell'ecopsicologia e che la sto intrecciando con le esperienze le conoscenze anche nel mondo della psicologia proprio su questa scommessa su questa lotta contro il tempo per cercare di acchiappare le persone una per una favorendo questo incontro una delle definizioni che diamo dell'ecopsicologia è una psicologia del noi dove questa dimensione del noi va prima di tutto allenata e coltivata a livello intrapsichico che è la vera palestra per poi poter riportare anche nelle relazioni con gli altri questa non è una novità in psicologia perché il meccanismo di proiezione e jung in particolare è stato per un grande promotore e divulgatore di questo concetto dell'ombra c'è ombra semplicemente come mancanza di luce quindi le parti di noi che noi non conosciamo il nostro inconscio vuole così tanto che noi le incontriamo che le proietta le butta addosso a un altro in modo che le riconosciamo lì nell'altro il salto di qualità è quando c'è quello che lui chiama il ritiro della proiezione cioè mi accorgo che quello che ho proiettato proprio come un'immagine su una superficie neutra in realtà era una cosa mia e allora l'altro non è più lo scorbutico l'antipatico è una persona che ha tanti diversi aspetti tra cui in alcune circostanze un determinato atteggiamento quando io faccio questo salto di qualità ecco che mi sto avviando a diventare homo pathos cioè uomo capace di integrare la cosa la cosa che aggiunge l'ecopsicologia è che allarga questo meccanismo di proiezione questa questo parallelismo tra mondo interno mondo esterno anche nella relazione con la natura notando che ci sono dei proprio delle corrispondenze tra quanto io sono in relazione con la mia parte eros quindi con la mia parte disordinata in afferrabile complessa moltiforme cangiante variante e quanto mi trovo a mio agio in una natura in un bosco in una foresta tropicale non in un mare in tempeste in una situazione in cui in che mondo esterno mi rimanda questa complessità questa variabilità e quanto più una persona è focalizzata sul suo logos tanto più si troverà meglio in ambienti coltivati ordinati un fiore giallo un fiore rosso un fiore giallo un fiore rosso facendo un bel quadrato dando la forma di anatroccolo all'arbusto così mi ci ritrovo nella mia forma e è possibile facilitare una maggior flessibilità e disponibilità nei confronti della propria parte eros imparando a frequentare e ad apprezzare quindi a poco poco con quell'adeguate attenzioni l'ambiente selvatico e viceversa attraverso opportunità nell'ambiente selvatico è possibile cogliere l'opportunità per per fare amicizia con la mia parte selvatico alla mia parte eros questo crea proprio delle possibilità ad azioni incredibili in questi giorni stiamo collaborando le due sedi principali della scuola di ecopsicologia sardegna e lombardia mi piace dire brianza come dio regione a un progetto erasmus che coinvolge francia e lituania coordinato dall'acquario di genova con l'idea proprio di risvegliare nei giovani queste competenze per accompagnarli a diventare attori attivi nella 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 lotta al disabilità nel cambiamento di paradigma a partire da un lavoro che prima di tutto personale quindi molte ma io sento che questi messaggi stanno arrivando da tante diverse direzioni quindi sento che c'è un risveglio molto grande poi è ovvio che la sfida e come tradurre tutto questo in azione perché chiaramente anche l'invito anche del tuo libro l'invito dell'ecopsicologia e ok cosa ne faccio concretamente come tradurre questa improvvisa illuminazione che io sono la terra la terra non è solo la la palla di roccia su cui come specie mi sono evoluto ma tutta la nostra storia racconta la storia dell'evoluzione della vita sulla terra noi siamo in tutti i sensi la terra e gli animali sono i nostri fratelli maggiori che ci hanno reso possibile come specie arrivare al punto in cui siamo perché senza cavalli senza mucchi senza conigli senza non eravamo qui a raccontarcela proprio o elefanti a trasportare o dromedare attraversare i deserti eppure questa capacità di empatia nei confronti di coloro che ci hanno accompagnato nel nostro processo evolutivo è persa in questo momento di libri come dici tu proprio vediamo solo noi vediamo solo il nostro orticello vediamo solo il nostro vantaggio negli anni in cui lavorato in una redazione di live gate eravamo inorriditi tutti i colleghi quando abbiamo visto paesi che chiamano gli animali salvatici patrimonio economico quindi anche gli animali considerati cosa comunque la sfida è quello cosa farmi concretamente laddove il grosso lavoro è proprio quello di risvegliare il senso di potere personale di ogni singolo individuo la consapevolezza dell'efficacia che abbiamo ognuno di noi singolarmente e ancor di più tutti insieme o gruppi insieme proprio per cercare di oltrepassare questa rassegnazione allevitabile che ci viene propinata in tutti i modi come se tanto quello che succede è troppo grande per farci niente allora cosa faccio aspetto la fine del mondo ma per carità mi rimbocco le maniche certo di fare fino all'ultimo quello che è possibile quindi è proprio un stavo leggendo una canzone bellissima diceva wake up beloved wake up cioè questo risvegliarci che è un risveglio dal punto di vista spirituale anche in senso laico per chi usa la parola spirituale anche proprio in un approccio laico ci può essere una spiritualità molto profonda di riconoscere che siamo tutti i fogli uno stesso albero se vogliamo usare una metafora buddista tanto per cominciare ma è anche un risveglio dal punto di vista ecologico capire che quello che facciamo impatta sulla terra è un risveglio dal punto di vista dell'empatia e della solidarietà umana a cui veniamo chiamati dagli eventi in questo momento mamma mia stiamo vivendo un momento abbastanza denso della nostra storia cosa possiamo fare marco dal tuo punto di vista della tua ricerca della di quello che è l'impegno che tu hai messo in questo tuo libro come la vedi questa possibilità di attivazione a livello individuale collettivo ma domanda a cui credo che nessuno possa proprio dare una risposta adeguata però per non non sottrarmi io penso questo che anche gli eventi drammatici che stiamo vivendo con la con la guerra siano purtroppo un ultimo eh ennesimo esempio come dire storico storico politico eh di quella tendenza all'hybris eh di quella tendenza alla prepotenza alla allo strapotere cioè all'utilizzo di una cosa anche lì fantastica che noi abbiamo qui hai fatto riferimento poco anzi quando parlavi del nostro potere personale cioè la forza la potenza in sé non è come la tecnica non sono condannabili eh totalmente a livello ideologico perché tutto quello che noi abbiamo fatto da fin dall'arco le e le frecce è è stato un atto tecnico quindi non possiamo metterci a mio parere contro la tecnica radicalmente ma se poi l'utilizzo prevalente di certi strumenti tecnologici non è al servizio dell'uomo o della o di una sua relazione equilibrata con la natura ma va in una direzione distruttiva dei diversi equilibri che di cui si compone l'ecosistema terra ma più largamente l'ecosistema vita allora eh è evidente che la questione diventa diversa e ehm ehm credo che oggi dobbiamo purtroppo avere consapevolezza eh che queste diverse crisi che erano già presenti prima della pandemia a cui si è aggiunta la crisi sanitaria eh in un modo assolutamente ehm unico eh nella modernità quindi la nostra fragilità intrinseca no? eh anche la nostra esposizione alla morte al tabù della morte che era diventato un po' un tabù sociale basta un piccolissimo virus per mettere in questione non la mia la tua la nostra vita ma la vita di miliardi di persone a cui adesso si aggiunge una delle cifre eh più eh negative forse la più distruttiva della storia dell'avventura umana quante guerre ci sono state nell'avventura umana pensavamo almeno che questa cosa qui eh capitasse sempre meno e non poi addirittura nel cuore dell'Europa ecco queste diverse forme dichiarano da una parte il fallimento del paradigma se volete in una battuta maschile patriarcale che ha dominato ehm l'avventura umana da tanti secoli e dall'altra però eh il rischio estremo cui siamo sottoposti sia dal punto di vista di una possibile guerra nucleare sia dal punto di vista che adesso appunto sembra che il problema sia stato accantonato invece ci aspetta lì purtroppo di fare i conti con il dissesto del eh pianeta Terra e no l'ulteriore surriscaldamento del pianeta questi sono eh eh a questi problemi del macrocosmo fa da contrattare non appunto come dicevi benissimo tu poco anzi non casuale la crisi interiore la crisi interiore dell'uomo contemporaneo ed è poi alla fine da quella che nasce a mio parere gran parte delle malefatte che facciamo all'esterno sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista ambientale perché non stiamo bene con noi stessi non abbiamo risposto positivamente a cosa siamo qui a fare ripeto non perché siamo qui ma cosa siamo qui a fare diamo il nostro contributo in una certa direzione o in un'altra creiamo ponti o li distruggiamo ecco secondo me la parola ponte è una parola che da un punto di vista laico è una parola da tenere molto presente tu adesso richiamavi il fatto che noi siamo Terra allora mi veniva in mente l'ultimo penultimo eh piccolo libretto di Thich Nhat Han lettera d'amore alla madre Terra no a cui potrei affiancare eh il teologo Raymond Panica che ho avuto la fortuna di conoscere eh qualche tempo fa a cui si può affiancare eh anche l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco che invito chi non l'avesse letta e anche non sia credente a leggere sono tre euro ma secondo me Papa Francesco fa un grande salto in avanti eh per quanto riguarda la Chiesa Cattolica rispetto all'interpretazione del rapporto con la natura ecco ci sono tanti segnali eh belli positivi proprio dei dei fiori che stanno venendo su che che quel potere che richiamavo prima vuole deliberatamente stroncare sul nascere di questo dobbiamo essere coscienti non ci sarà regalato nulla e c'è un'azione deliberata per non far venire fuori questo nuovo questo femminile in senso nel senso che hai declinato tu prima no? Però quella è la via quella è la via io non ne vedo altre è una via complicatissima difficilissima estrema che vuol dire anche come durante la pandemia tirar fuori tutte le risorse che pensavamo anche di non avere e che abbiamo tirato fuori no? Abbiamo dovuto tirare fuori ognuno di noi le proprie risorse interiori per far fronte a una esperienza esistenziale e e collettiva totalmente inedita. Ecco siamo chiamati a questo. Siamo chiamati a un lavoro di meditazione, di consapevolezza, di comunione e di cooperazione ma nella direzione appunto di creare nuovi ponti, di creare nuove occasioni in cui la forza selvatica della natura reincontra la forza selvatica dell'essere umano in un'istanza magari poi superiore che non resti solo il selvatico in senso stretto ma che sia magari un'elaborazione no? Di questi di questi istinti. E questo io mi permetto nella parte conclusiva del libro per calarlo un po' nella realtà per non fare solo dei discorsi ideali o idealizzati richiamo attraverso questa metafora di cinque alberi sociali e antropologici richiamo l'attenzione ad alcune forme vive già esistenti nelle nostre società squilibrate che già operano però in quella direzione. Non partiamo dal punto zero e adesso le enucleo rapidissimamente. Tutte quelle forze economiche, culturali e sociali che si richiamano nel concreto e non per le enunciandoli per farsi belli a ai principi dell'etica laica che richiamavo prima e quindi anche nel campo economico le imprese che veramente eh agiscono con un management per esempio eh eh responsabile ambientalmente, responsabile socialmente, ispirato al noi e non alla massimizzazione del profitto. Quindi le forze economico, culturali e sociali di quel genere lì. Il meglio delle tradizioni religiose di varia natura, di varia estrazione, anche dell'Islam. Io ho conosciuto qualche anno fa un grande maestro Sufi, Gabriele Mandelkan, che mi diceva ma guarda eh alla fine eh per eh il Sufismo, cioè la componente mistica e poetica ed ed artistica e benemerita del dell'Islam. Ci sono tre parole importanti. Attenzione, 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 attenzione. Cioè aveva già detto tutto no? Simbolicamente. Allora, il meglio di queste tradizioni spirituali, il mondo dell'ambientalismo evoluto e tutta la nuova ricerca scientifica orientata in senso autentico ambientalista ed ecologico, quindi eh che non è ispirata da un sentimento di dominio della natura e dell'ecosistema terra ma invece di di cura, di custodia, di cooperazione. Quindi il mondo dell'ambientalismo. Il quarto è il mondo del volontariato. Guardate anche in questo caso qui di questi giorni qui dove saremmo già arrivati dopo due settimane di tragedia di questa guerra se non ci fosse stata la mobilitazione di quello che chiamiamo adesso in sintesi il mondo del volontariato no? Delle varie formazioni che non è solo la croce rossa sono tante realtà in tutti i paesi che si stanno da fare portando la no? Il mondo sarebbe già dissestato da decenni se non intervenisse quella parte vitale della società che chiamiamo terzo settore volontariato di cui anche forse no? Simbolicamente eh la vostra associazione fa parte no? Perché non ha scoppi di lucro no? Per dire ecco questo bene bene comune che si diffonde e che copre le manchevolezze anche delle istituzioni. E l'ultimo albero decisivo è il femminile nel senso non della donna nel senso stretto ma del femminile anche presente nell'uomo e di tutte le svariate forme di ricerca e di lavoro su di sé. Da quello dalla forma vostra bellissima importantissima di coniugamento appunto della dimensione esteriore con quella interiore a chi lavora sul corpo seriamente chi fa yoga chi fa tai chi seriamente a chi fa psicoterapia a chi nei momenti di tempo libero legge ancora quella cosa stupida che si chiama poesia piuttosto che eh si interessa di arte eh non in forma estetizzante quindi tutta la dimensione anche eh artistica intesa in senso etico. Ecco tutto l'insieme di quelle persone che in varia forma chi ha un rapporto fraterno con le altre forme viventi sia vegetali che eh animali eh chi si occupa chi si cura di sé e dell'altro ecco questo è l'albero alla fine forse decisivo che riassume eh gli altri quattro che esiste già che è già molto vitale e che va ulteriormente però incrementato eh. Grazie mille Marco grazie di questa sintesi quindi conclusione del discorso come proprio invito anche alla speranza che insomma non partiamo da zero come dici e ognuno può trovare il suo modo il suo canale il suo partner di 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 applicazione di lavoro per per darsi da fare ognuno coerentemente con quanto può e vuole e ama fare perché è anche importante seguire questa spinta con passione non consenso del dovere. Assolutamente. Bene un grazie di cuore e quindi io vi vi ricordo che il libro di Marco è presente in bibliografia sia in Academy sia sul link sul sito. Per chi non fa parte della scuola il sito è www.ecopsicologia.it dove trovate informazioni, programmi, ci sono tante varietà di approfondimenti da dai da più piccoli sino a formazioni intere. Volevo farti dire un due parole su questo evento in cui intervisti Vito Mancuso che credo vale la pena far sapere a tutti quanti. Grazie grazie. Eh aggiungo solo in trenta secondi un una cosa che mi sono dimenticato di dire sul libro a cui tengo molto perché chiaro il libro è partito da una riflessione personale ma poi il mio istinto è stato da subito di aprirlo al noi. Quindi il libro è molto denso di citazioni mirate di autori e autrici che sono state per me dei punti di riferimento in questi anni e che non sono solo di radice intellettuale ci sono anche artisti, poeti, c'è Rainer Maria Rilke, c'è Maria Angela Gualtieri, c'è Etti Lillesum, c'è Maria Zambrano cioè c'è un po' il mio piccolo panteon di persone che hanno pensato in quanto hanno sentito non hanno fatto un lavoro intellettuale separato dal loro sentire. Ecco, li hanno tenuti insieme. E aggiungo che è molto gradevole da leggere proprio, proprio perché c'è questo intermezzo di partecipazione anche a altre. Marcella adesso faceva riferimento a una prossima occasione che si inserisce così in questo periodo di riflessione che ci tocca fare e che dobbiamo anche fare, come diceva Marcella, con piacere e non con senso del dovere. Qualche tempo fa ho avuto l'occasione di realizzare delle interviste filmate con Vito Mancuso, il teologo che immagino conosciate e con Monio Vadia, l'uomo di teatro di radice ebraica, però laico, che è ugualmente noto. E le presento nelle prossime settimane la prima, quella di Vito Mancuso, lunedì 28 marzo alle 21 con l'associazione Filo, che è un'associazione culturale che raduna psicoterapeuti e comunque insomma varie persone che si occupano dell'evoluzione umana, in streaming ovviamente, e poi quella invece in Monio Vadia sarà il 2 maggio, quindi poi per magari poi io mando a Marcella le due locandine, così se chi fosse interessato può avere gli estremi. Qual è il sito che bisogna cercare? Dunque il sito si chiama Filo, nella terminologia greca, cioè PH, Palermo Hotel, Imola, Livorno, Otranto, Filo, associazione culturale, si va sugli eventi e si trovano già le due locandine con indicazioni pratiche per partecipare. Sono due interviste anche lì che ho voluto cercare di realizzare non da un punto di vista appunto accademico, ma per far venire fuori anche così il sentimento di questi due uomini che sicuramente sono ispirati da una parte diciamo così al bene comune e dall'altra in questo caso di questi giorni proprio alla pace. quindi poi siccome saranno presenti entrambi alla fine della proiezione delle interviste che ognuna delle quali dura 50-60 minuti, saranno presenti per un dialogo con i partecipanti e il dialogo che io all'inizio orienterò necessariamente sulla situazione che stiamo vivendo in questi giorni, quindi se volendo chiedere a loro il loro parere su pace e guerra ai tempi nostri. Quindi scritto è filo.it? Filo, sì, filo... adesso mannaggia non ce l'ho... Scuola filo.it da Yolanda L'ho scritto sulla chat Grazie mille, sì sì, scuola filo col ph Ecco col ph e tutto qui. Volevo, se mi dai solo due secondi, leggere una brevissima frase di Edgar Morin che inclina, non sottacendo le difficoltà attuali, alla speranza chiudiamo, come diceva Marcella giustamente, sulla parola piacere e sulla parola speranza quindi che sono due bellissime parole della vita Ed è un... ci sono proprio tre righe di Edgar Morin, no? Che mi sembrano molto attuali Lui dice Lavoriamo per rilegare Sempre rilegare Possiamo sperarlo? L'ora è sempre più grave Ma una coscienza più alta deve darci il coraggio di cominciare Ribadisco qui i miei cinque principi di speranza L'emergere dell'inatteso e la comparsa dell'improbabile Le verità generatrici e creative inerenti all'umanità Le virtù della crisi Le virtù della crisi Le virtù del pericolo La millenaria aspirazione dell'umanità all'armonia Vi ringrazio molto, vi ringrazio molto Grazie Marco Veramente un grazie di cuore È stato un piacere Vi troverete la registrazione in Academy Nella vostra aula E credo che avremo modo di inventarci anche altre opportunità insieme Quindi dovere un grazie di cuore A nome anche di tutto lo staff della scuola Anche di chi non ha potuto essere qua questa sera Grazie a tutti voi che avete partecipato Continueremo Adesso che abbiamo scoperto poi tutte queste Abbiamo da lavorare Abbiamo tanto da fare Esatto Quindi il fatto di sapere di non essere soli è un gran Uomini e donne Uomini e donne Perché poi queste occasioni qui sono sempre al 90% 80% composta da donne Invece bisogna tirare dentro anche qualche maschietto volenteroso Assolutamente Qualcuno ce n'è Grazie Buona vita Buona serata E a presto A presto